Va bene, grazie mille. Chi hai trovato? Nessuno ha visto Han Choi, tu hai saputo qualcosa? Niente su Choi, ma ho imparato che gli hipster non gradiscono essere chiamati hipster. Eh, sì, e come vogliono essere chiamati? Uomini barbuti con pantaloni aderenti e scarpe da ginnastica. Suona male comunque. Già. Allora, Eric e Nell hanno le immagini di Han Choi nel ferramenta, ma non quelle di quando entra o esce. E non hanno altri filmati dalle videocamere di questa strada? E se fosse entrato nel negozio, non dalla strada? Spia nordcoreana che si teletrasporta? Ti ascolta. Forse si è calato dai piani superiori. Una spia volante che si teletrasporta? Bel soggetto per un film di fantascienza. Scala antincendio, porta sul resto. Cioè una scala e un accesso riservati per consentire a Choi di acquistare articoli per hipster? Certo. Ci penso io. Eh, ma no, non c'è bisogno, possiamo fare il video. Guarda che ci arrivo facilmente, non lo sai che ho un'elevazione fuori dall'ordinario? Non farti male. Facciamo il giro e cerchiamo il proprietario. Giusto, ho t'una idea. Comunque è perché salti in quel modo che stamattina abbiamo perso.